qual è il ruolo del colore nella pittura di kandinsky il colore quale mezzo per influenzare l'anima il colore è il tasto l'anima è il pianoforte l'artista è la mano che con un tasto fa vibrare l'animo umano affermerà l'artista kandinsky percepì la forza della musica e nel contempo intui le forze della pittura il rapporto tra colori e suoni questa meravigliosa corrispondenza tra le arti al contempo era sempre più attratto dal potenziale delle forme astratte lontano da una fedele riproduzione del reale quali origini ha l'arte astratta come afferma flavio caroli in occidente l'arte astratta non poteva che nascere da un artista russo sarà proprio la tradizione iconoclastica dell'arte russa ossia bizantina a creare in occidente l'arte astratta da qui nascerà quel grande abbraccio tra l'arte orientale e quella occidentale l'arte occidentale un'arte realistica naturalistica basata su di un linguaggio di tipo figurativo che ora grazie agli artisti dell'est emigrati finalmente si confronta con la tradizione dell'arte bizantina dalla forte valenza spirituale ed astratta giallo rosso e blu opera realizzata nel 1925 quando insegnando presso il bauhaus presso la sede di weimar kandinsky si trovò sperimentare un linguaggio geometrico e razionale ben diverso dall'orientamento più mistico spirituale del primo programma della scuola osservando la tela la sezione sinistra si presenta chiara leggera grafica e lineare la destra caratterizzata invece da un cromatismo più cupo pesante con marcati effetti di dinamismo come la linea curva nera in quest'opera si manifesta il tema fondamentale delle sue creazioni il tema della lotta e del contrasto scopo delle sue raffigurazioni non è la ricerca di un effetto di armonia dei colori ma la rappresentazione dei contrasti di colore e forma la sua epoca dilaniata dalle contraddizioni richiedeva l'espressione della sua anima perduta attraverso un'arte che ne mostrasse i contrasti vivi attraverso un'arte astratta fatta di contrasti accesi tra forme e colori l'opera rappresenta inoltre l'immagine resa attraverso forme ormai del tutto astratte e geometriche della lotta tra san giorgio ed il drago immagine che ritorna spesso nel suo operare del suo periodo espressionista il suo leitmotiv la lotta tra il santo cavaliere ed il drago rappresenta l'eterna lotta del bene contro il male e per l'artista diventa quindi simbolo della lotta intrapresa dalla nuova arte astratta spirituale contro l'incubo materialistico che grava sull'anima moderna qual è l'obiettivo dell'artista attraverso le sue creazioni per kandinsky le sue opere non sono solo delle creazioni dello spirito ma un rimedio per la sua epoca malata secondo kandinsky alla fine dell'epoca capitalistica doveva sorgere una nuova epoca illuminata dallo spirito la cui forma d'espressione sarebbe stata l'arte astratta quali modelli da seguire kandinsky si proponeva una guarigione attraverso l'arte che avrebbe dovuto portare l'uomo ad una nuova coscienza spirituale dove l'artista volge il suo sguardo verso una realtà più profonda e nascosta in questo senso vengono approfondite dall'artista le teorie filosofiche idealiste tedesche da kant a fichte a schelling a rudolf steiner e alla disciplina teosofica che si proponeva una vera e propria svolta dei tempi basata su di una necessaria rivoluzione spirituale dell'uomo e della società affascinato dal cristianesimo dall'induismo e dal buddismo sarà uno dei primi artisti a iniziare ad intraprendere quel viaggio nelle religioni orientali che sarà poi caratteristica di molti altri artisti del novecento quali riflessioni esprime nel suo saggio sullo spirituale nell'arte nelle teorie esposte nello spirituale nell'arte del 1909 aveva proposto una schematizzazione dei colori secondo i loro risvolti psicologici e spirituali il blu meditativo il giallo dinamico il verde tranquillizzante largo spazio viene dato anche allo studio delle linee la linea obliqua è instabile dinamica la linea curva crea un effetto di quiete la linea spezzata evoca il dramma e allo studio delle forme il quadrato è la forma più stabile il triangolo contiene in sé tensione il cerchio è la forma pacata quale la relazione tra pittura e musica nelle opere di kandinsky egli voleva rendere visibile lo spirituale attraverso un puro linguaggio fatto di forme e colori dove il contrasto dei colori ha un diretto effetto psicologico sul fruttore creando delle vere e proprie vibrazioni dell'anima un cosmo risonante dove il colore diventa un vero mezzo sonoro un po come accade nella musica le opere di mozart spesso citate da kandinsky creano la loro armonia attraverso lotte di toni che rappresentano l'equilibrio perduto opposti e contraddizioni e si possono paragonare alle lotte di toni nelle opere di kandinsky il suo appello per un rinnovamento spirituale si estende quindi a tutti i campi dell'arte e della cultura la bellezza delle sue opere sta quindi nel saper suscitare la capacità di percepire lo spirituale nelle cose materiali ed astratte questa capacità che ci rende felici a